Bene 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 Bitcoin ci sta a riprovare come si dice in gergo perché di nuovo siamo arrivati nella area di resistenza importante soglia dei 72 mila dollari ce la fa non ce la fa il massimo almeno in close non parlo quelli in shadow intorno ai 73 mila dollari al momento è lì ci prova non ci prova che cosa sta succedendo Allora il rialzo di oggi ci può stare però molto forte rispetto anche a tante attese un po' il dubbio che avevo la scorsa settimana del dire ok tutti ci aspettiamo che deve un po' ritracciare o comunque riposare o non lo fa appunto oppure se lo fa lo fa in maniera consistente Però c'è sempre il solito problema in realtà comunque la candela di oggi cambia un pochino di carte in tavola relativamente lo vediamo nel video di oggi perché c'è un po' di aggiornamenti da fare a livello di analisi ciclica Bitcoin Monday come sempre c'è un grafico che anzi una tabella che volevo farvi vedere su quanto per quanto riguarda gli etf è un nuovo sito che vi do a disposizione Che ho trovato che è figo perché si possono andare a intersecare una serie di dati per quanto riguarda gli inflow degli etf Bitcoin e poi una tabellona che andremo a vedere del classico Balconas e ho imparato il nome ragazzi Eric Balconas che è l'analista Bloomberg perché una cosa l'ha detta interessante c'è la lunghezza temporale degli etf che stanno raccimolando ancora capitale Il problema è sempre chiederci attention please quanto durerà ancora perché poi lì dovrà camminare con le sue gambette e tante cose da andare a vedere nella giornata di oggi Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video lancio della moneta che non è proprio stata lanciata e mi continuo a dire che scende e lo diceva pure se ti hanno ascolti però qua non scende niente tu dici che scende qua non scende vabbè Allora detto questo passiamo invece a una super news ragazzi perché arriva la primavera e come sempre io sono molto molto attento alle varie promozioni che faccio con i miei percorsi di formazione E quella di primavera è quella più importante di tutti quella a cui tengo veramente tanto tanto ragazzi allora il percorso It's Trading Time Corso Basic 2 con Academy inclusa ormai insomma chi mi segue già conosce più o meno questa offerta È in super super sconto perché abbiamo lanciato le promo della primavera per una settimana quindi da qui a lunedì prossimo ci sono super sconti tutta la settimana ma attenzione perché lo sconto principale dura fino a mercoledì E sì perché il prezzo aumenterà poi ogni due giorni quindi è importante ragazzi 897 dai 1000 e 3 circa diciamo che è in promo standard ogni anno quindi è tantissimo ragazzi più di così non so che cosa bisogna fare veramente dentro ci sta il mondo Tutto quelli che sono le basi a livello di corso di formazione è vero l'ambito trading ragazzi ma questo è un corso soprattutto di mindset di approccio ai mercati per farvi comprendere come bisogna ragionare sui mercati quindi non è un corso per fare trading after time cioè ogni giorno in continuazione non è quello Il concetto è imparare ad approcciarsi ai mercati nel modo corretto comprendendo diverse tecniche e diversi approcci mentali che vi salvano la vita in toto ragazzi in tutti quelli che sono i vari problemi delle crypto eccetera È rivolto sostanzialmente a tutti i neofiti ma un pochino io lo dico un minimo magari qualche operazione in Cina è meglio se l'avete fatta perché c'è scritto basic ma è basic per me ragazzi ma è tutt'altro che basic Il corso è un corso assolutamente ad avanza e parte ovviamente come un basic ma poi nella seconda parte trovate un mare di nozioni tra cui tecniche anche di trading intraday molto potenti Tutti i moduli relativi all'analisi ciclica tutto quello che è la spiegazione di alcune strategie di ingresso particolari eccetera strategie dei supporti come si parla dei supporti come si parla di non le resistenze i vari indicatori Insomma ragazzi è un corso assolutamente completo molti dei corsisti che l'hanno fatto non hanno avuto neanche l'esigenza di ulteriori studi a meno appunto di andare a specializzarsi poi in quelle che sono le analisi che giustamente ognuno di noi predilige Quello sì però non è necessario neanche aggiungere così tanto ragazzi quindi corso basic 2.0 in super super offerta per le offerte di primavera quindi a 8.97 fino a mercoledì ragazzi Affrettatevi perché da mercoledì salirà a di 100 euro questo già ve lo dico e poi continuerà a salire tutta la settimana fino alla fine delle offerte che arriveranno il lunedì prossimo quindi per chi di voi vuole formarsi vuole farlo nel modo giusto Seguendo il percorso giusto nel in un percorso che vi insegna il mindset l'approccio nonno mille tecniche inutili di trading che non vi servono ragazzi poi ve ne accorgete man mano che studiate E allora questo è il percorso giusto se invece non volete fare un tubo non vi volete imparare niente eccetera io lo so ragazzi non fate niente E allora detto questo link in descrizione ma sempre sul sito ovviamente trovate la super offerta andiamo a noi ragazzi alla questione del ciclo mensile bitcoin 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 ci riprova Allora situazione estremamente delicata è stata questa fase ribassista non vi nascondo tra le altre cose un certo disappunto anche da parte mia perché uno dei miei sistemi preferito Quello che uso anche per la parte holding ha faiato proprio in questa fase e la peggiore operazione che abbia fatto credo non di perdita perché non è che è perso ragazzi però Non è entrato diciamo bene ecco questo concettualmente la peggiore situazione che va a gestire diciamola così che in maniera corretta da due anni un anno e mezzo circa Infatti oggi stamattina ero così ragazzi ma un po' me lo sentivo nell'aria perché io lo conosco questa strategia so bene quali sono i suoi punti deboli L'avevo anche accennato in academy gli iscritti e insomma gli avevo detto che avevo paura di questa situazione tac avviene sempre Però perché perché la situazione è una barra di congestione allargata sostanzialmente quindi sistemi trend follower non funzionano Questo è il concetto di base nel momento in cui siamo in pratica arrivati qui all'intorno al 10 di marzo il mercato ha fatto solo up and down senza nessun senso Quindi in pratica dal 10 di marzo sono circa un mesetto che bitcoin non fa nulla oscilla su e giù dando dei segnali tra le altre cose anche discordanti Perché perché le scorse settimane quando aveva toccato il livello di fibonacci e poi confermato la creazione di una figura di inversione l'ha poi negata Praticamente fino ad oggi no ma con la giornata di oggi sì la nega perché perché è andata a superare i massimi di questa zona Anche se non ci chiude sopra comunque è negata la figura di inversione che si chiamava gatekeeper quella di base utilizzando i fibonacci e quindi è stata negata D'altro punto di vista l'analisi ciclica che è l'unica in questo momento che ancora ha un senso strutturata in questo modo quella di breve Ci diceva che su questo minimo è iniziata il secondo bisettimanale del ciclo mensile e che non c'erano vincoli Quello ve l'avevo già detto a livello rianzista o ribassista non c'erano alcuni vincoli quindi il mercato poteva tranquillamente fare nuovi massimi Quindi senza fare anomalie quindi questa struttura di tentativo di bitcoin di stare a fare nuovi massimi in questa zona ci sta assolutamente alla grande Con la creazione di questo ciclo di natura mensile dove non sta invece nella questione legata al ciclo trimestrale perché perché un massimo in questa zona Anche se secondo me non avrà vita lunga cioè bisognerà vedere secondo me se riusciamo a superare questa zona perché questo livello di massimo è un massimo farlocco In realtà il livello è comunque questo qui perciò ancora non ci siamo arrivati però tendenzialmente un mercato che va a sviluppare una fase in questo modo In un ciclo mensile che praticamente simboleggia un ciclo mensile quasi sicuramente al rialzo quindi strutturato in questo modo Non può da qui avere ancora un trimestrale da chiudere quindi in sostanza in sostanza qui siamo in pratica su un nuovo trimestrale Dal 20 di maggio che è veramente anomalo perché perché un trimestrale da 57 giorni intanto non esiste con bitcoin quindi non si può neanche definire tale una cosa del genere Probabilmente è un super trimestrale quindi un trimestrale molto lungo o un semestrale corto che andrà a strutturarsi in questo modo Quindi con ogni probabilità andremo a fare una specie di trimestrale lungo da oltre 100 giorni o un semestrale cortissimo insomma eccetera E quindi la struttura attuale è un bimensile chiamiamolo così quindi un doppio ciclo mensile Che è iniziato qui e che teoricamente si andrebbe a concludere poi in pratica nella circa più o meno nella zona di maggio 2024 In sostanza dovremmo avere una strutturazione di questo ciclo mensile e poi del ciclo mensile finale Quindi è come se facessimo più o meno gli stessi 57 giorni strutturati qui e andiamo verso metà maggio a creare la seconda parte In pratica è come se avessimo creato un ciclo a metà e poi un secondo ciclo a metà Invece nella prassi la teoria ciclica ci diceva che almeno fino a quando eravamo qui questa zona poteva essere tranquillamente il ritraccio e la chiusura del trimestrale Cosa che invece con i massimi attuali di oggi secondo me è negata questa cosa qui Quindi al momento la soluzione più comune è che siamo in questa struttura Quindi un po' di chiarezza da quest'analisi l'abbiamo Cioè la struttura ciclica di Bitcoin si sta sviluppando probabilmente unendo due bimensili da 55-60 giorni E che ci porterà alla chiusura di un maxi movimento poi verso maggio 2024 Quindi teoricamente ancora in una fase del genere ci sarebbe tanto spazio Qualche giorno scusate non tanto spazio Qualche giorno di spazio per addirittura fare neanche nuovi massimi Non è anomala una cosa del genere perché essendo questo non più il trimestrale precedente ma un nuovo Non ci sono vincoli di nessun genere quindi a questo punto questa zona qui può continuare a fare una roba del genere Prima di chiudere questa struttura C'è da un punto di vista tecnico quindi proprio analizzando i dati Bitcoin continua questa sua fase anche se è in barra di congestione Però ciclicamente parlando la probabilità che questa fase di bassista si sia spostata da metà aprile più o meno verso metà maggio C'è però tra le altre cose ragazzi bisognerebbe ricordare che le fasi attuali cicliche Che hanno una scarsa probabilità di fare numeri rilevanti Numeri rilevanti non intendo andare a fare nuovi massimi perché possiamo farli Però io numeri rilevanti intendo rialzi importanti almeno fino alla chiusura Perché qui abbiamo fatto per esempio l'ottanta per cento Quindi se io vi dico numeri rilevanti intendo che magari anche se andiamo a fare nuovi massimi E ce ne andiamo a fare un più venti per cento insomma venticinque diciotto una roba del genere Insomma lo può fare quindi sono numeri però non rilevanti intendo non come i precedenti Cioè noi andiamo a fare l'ottanta per cento qui Se succede una cosa del genere allora a livello ciclico c'è un'ulteriore anomalia che andrà analizzata E qui ragazzi bisognerà andare a ragionare perché abbiamo un dato oggettivo Cioè la questione degli ETF che stanno modificando la struttura precedente di Bitcoin Questo è normale E da gennaio molte cose sono cambiate Ve lo dico in maniera chiara perché anche attraverso l'utilizzo dei miei sistemi di trading Che sono stati creati utilizzando dati statistici Cioè le serie storiche passate perché quella è l'analisi quantitativa Molti di quei sistemi hanno iniziato a dare segnali ambigui Questo significa e l'hanno fatto esattamente ragazzi il giorno dopo l'avvento degli ETF Questo è normale me lo aspettavo Però poi bisogna dare tempo per vedere se il mercato riassorbe e si riconcentra È una questione di analisi quantitativa Bisogna dare tempo al mercato di riassorbire Però un pochino tante cose sono cambiate Anche l'analisi ciclica potrebbe subire questi cambiamenti Quindi sarebbe da ricreare tra un po' di mesi Seguendo un altro filone Perché gli ETF hanno strutturalmente modificato il mercato ragazzi E anche perché questa è una fase particolare degli ETF E io invece voglio vedere quando finisce questa fase degli ETF Cioè quando finisce la fase di hype 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 Cioè di continuo investimento sulla parte degli ETF Vi faccio vedere questo grafico che avevo promesso Questa tabella di Balconas Eric Balconas L'analista Bloomberg Che indica che in pratica sono 59 giorni Che i BIT ed FBTC hanno nuovi investimenti In pratica questa è una tabella degli inflow daily Quindi in termini di tempo più lunghi della storia E qui si vede dove sono posizionati Allora Bitcoin ancora è lontano magari dai 100 giorni eccetera Però ragazzi è importante Cioè stiamo vedendo degli influssi di capitali All'interno di questo mercato da 60 giorni Cioè comunque da una roba rilevante E continuano giornalmente questo tipo di flussi monetari E' anche questo il motivo per il quale Vediamo Bitcoin che appunto fa queste figure tecniche Queste analisi che poi non le confermano Anche qui un po' Ne avevamo parlato un pochino Perché? Perché c'è questo sostegno da parte degli ETF Di questo massiccio ordini che entrano In pratica è come se in un'attuale fase Noi fossimo in un mercato tra virgolette pilotato Un po' come fu il quantitative easing per SP500 Che praticamente indicava una sola retta rialzista Noi mercati classici Questa cosa però Il problema è che non potrà durare per tanto tempo Nei mercati delle cripto Anche perché a un certo punto Gli investitori istituzionali avranno raggiunto Il loro capitale corretto investito Nel settore delle criptovalute E quindi bisognerà attendere poi Quella fase per capire Quando questo sostegno verrà meno In termini di domanda continua Che succede? Cioè reggiamo o non reggiamo? Cosa succede? Ci sarà un ritracciamento? Allora Tutte queste cose sono una novità Noi non abbiamo nessun dato storico Di questa cosa sul Bitcoin Possiamo interpolare i dati Da quello che è successo appunto Nei mercati classici Con la quantità di easing E ne abbiamo diverse volte parlato Io sono convinto che il 2024 Resterà un anno estremamente positivo Per il mercato delle cripto Però vorrei attendere un po' Questa evento Per capire anche il comportamento Di Bitcoin E avere un'idea di fondo Di come si può comportare Se per esempio Vengono meno gli inflow Perché alcuni dati Li abbiamo già visti Per esempio Quando abbiamo visto Che gli inflow Si andavano a ridurre Nel settore delle criptovalute Abbiamo visto anche un po' Di prese di profitto Di ribasti eccetera E cioè In questa zona per esempio Dove abbiamo visto Qualche inflow Che veniva meno E qui abbiamo assistito Infatti vedete Ha un ribasto Adesso non me lo fa vedere Comunque qui C'è il ribasto del prezzo La linea tracciata Che vede Bitcoin Allora Questo sito Bitcoin TF Foundflow Punto com Interessante Perché vi fa vedere Delle cose Vi fa vedere Per esempio Quelli che sono I inflow Eccetera Sia a livello Di dollari Che di Bitcoin Qua a livello Per esempio Netto qui Per esempio Di dollari Vi dice Il totale negativo Perché Bitcoin È sceso Però il totale positivo Di Bitcoin È stato positivo Anche per il giorno 5 di aprile Quelli di oggi Non ci sono ancora E bisognerà vedere Allora Questo sito è interessante Per esempio Qui potete anche Deselezionare tutto E andare a vedere Soltanto Gli asset under management Esprezzi Per esempio In Bitcoin Come si sono posizionati Da Il massimo Di aprile Vi faccio vedere Questa appunto Situazione Da questa zona Gli asset under management Sono più o meno Rimasti Gli stessi O inferiori Solo adesso Stanno aumentando E questo Ha causato Una barra di congestione Con dei brevi Schizzi E ribassisti E quindi È importante Comprendere Come in questo caso In pratica Gli ETF Di Bitcoin Svolgano Un ruolo Palesemente Correlato Al prezzo Di mercato Quindi Il prezzo di mercato Sale Insieme All'aumento Degli asset under management Di Bitcoin Presenti Negli ETF Questo influsso È positivo E va bene Però resta la mia domanda Ragazzi Quando finirà Perché finire Finisce a forza Nel momento in cui finirà Come si comporterà Il re delle cripto Reggerà Non reggerà Abbiamo visto Che quando diciamo Questo AOM È rimasto Stabile Questo già È un primo dato Abbiamo visto Una lateralità Come una leggera Presa di profitto E mi sta bene Una cosa del genere Ma questo vuol dire Anche che se Gli AOM di Bitcoin Non riprenderanno Per esempio Un trend Di questo tipo Probabilmente Assistere ad incrementi Notevoli di prezzo Come quelli che abbiamo visto Da gennaio Fino a marzo Sarà Difficile Allora Dovremmo utilizzare Poi altre narrative C'era la questione Dell'alving Quindi un taglio Dell'offerta E non della domanda Un significato Diverso per Bitcoin Che non solo Appunto questo bene Che viene acquistato E messo lì Per vedere Se tutto va bene Eccetera Ritorniamo sempre Alle stesse domande Alla fine Questo è un evento Istituzionale Molto interessante Però poi alla fine Sarà sempre Bitcoin A dover dimostrare Il proprio valore Ed è quello Che conta di più Ragazzi Quello che conta di più In questo momento Va bene Allora questo sito È molto bello Perché vi fa vedere Anche il trend Dell'asset data management Potete esprimerlo Sia in Bitcoin Che in dollari Basta cliccare qui Su questa strutturina Sito gratuito Come sempre Se me lo ricordo Ve lo metto In descrizione Questo sito Perché poi Lo dico E poi Non lo dimentico Vabbè Allora detto questo Torniamo alla questione Degli Della fase Di attuale Mensile Di Bitcoin Fase che ancora Non si va A definire Attenzione Perché il ciclo mensile Dovrebbe chiudersi Entro Il Settimana Del 19-20 Di aprile Ciò significa Che siamo vicini Alla fase di chiusura Quindi teoricamente Stiamo segnando Un massimo Del ciclo mensile Però Ancora Siamo Lontani In termini Di tempo Cioè 11 giorni Per Bitcoin Sono un abizzo Perché Bitcoin Può fare Una roba del genere E poi In chiudere Cioè abbiamo visto Che cosa succede A Bitcoin Quindi è vero Siamo nell'ottica Del ciclo mensile Stiamo per fare i massimi 19 giorni Di solito i massimi Di un ciclo rialzista Vengono fatti Intorno ai 22-24 giorni Quindi Teoricamente La fine di questa Settimana Ciò significa Che c'è tempo Di aggiornamento Dei massimi Però Attendiamo ragazzi Perché Il superamento Di questa zona Decreterà La fine di questa Mini barra di congestione Che poi è stato Praticamente Diventerebbe Una Triangolone Di fase Di riaccumulazione Di solito Non le fa così A dire la verità E questo è un po' Anche il dubbio Di tante motivazioni Comunque L'eventuale Breakout Dei 73 Confermato In cross daily Sancisce Il rientro Di Bitcoin In Discovery price Quindi In territorio Di Nessuno Conosce Dove si va E quindi Il target Di altri livelli Se lo fa Poi parliamo Dei diversi Target possibili Che sono Vicino Gli 80 Li può fare Prima Della fase Di chiusura ciclica Di maggio Sì Li può fare Perché Non ha Nessun tipo Di vincolo C'era solo Il dubbio Della scorsa Settimana Legata Alla possibile Ribasso di aprile Se andavamo A chiudere Il trimestrale Se il trimestrale È stato negato Questa cosa Non c'è più E quindi L'eventuale ripasso Da questa fase Sancisce un trimestrale Debole Ma non cambia La view Cioè non cambia Il concetto Che vi ho detto Cioè se da qui Dovesse iniziare a scendere Questo trimestrale Resta comunque Quello che va Poi Che ci porterà A maggio A meno A meno di eccezioni Stranissime Questa cosa La darei quasi Per sicura Ecco questo Il discorso Poi Sarà debole Vuol dire che scende Di più Ecco questo Vuol dire una cosa Del genere Ma non Non cambia La struttura ciclica Quindi struttura ciclica Per me Da questo livello Del 20 di maggio Di marzo È iniziato Una nuova struttura Che io chiamo Trimestrale Ma in realtà È un B mensile Perché È due mesi Messe insieme Vediamo come va Primo Sembra lì Alzista Il secondo Dovrebbe essere Quello debole Vediamo intanto Come funziona Questo Bene ragazzi Vi ricordo Assolutamente Immancabile L'offerta Per Le offerte Di primavera Con un super risparmio Per quanto riguarda Il percorso Del basic 2.0 Di It's trading time Vi ricordo Che all'interno È già Inclusa L'academy Per tre mesi Gratuita Quindi Non solo Il corso Ma l'academy Importantissima Perché lì Stiamo gestendo Anche Portapogli Cripto E attenzione In academy Ci sono anche Altri canali Di cui uno Molto Molto Bello Quello relativo Agli AirDrop Che abbiamo Non c'è Da poco Che sta gestendo Alberto E tra le altre cose Voglio Dargli Molta più Importanza A quel canale Perché Stanno arrivando Agli AirDrop Pazzeschi Poi Alberto È bravissimo Fa delle analisi Puntuali Non Insomma Due parole Insomma Sono analizzati In maniera Molto dettagliata Molto bello Quella Quel canale Ve ne parlo In questa settimana Così facciamo anche Dei focus Perché proprio Attraverso quello Vorrei fare un video Dedicato a uno Dei progetti Che secondo me È più interessante Proprio In questo periodo Detto questo Buon inizio settimana A tutti Noi ci rivediamo Nel prossimo video Vediamo che fa Bitcoin I mattini Nuovi mattini Sì No Ciao Ciao